Attenzione alle truffe! Ultraottantenne di Calozio Corte, ingannato da un presunto nipote, consegna 3.000 euro a un corriere per una scatola che contiene solo pezzi di elettronica. Sono episodi diffusi non solo nel nostro comune, spiega Luca Caremi, assessore alla sicurezza. Iniziano spesso con una telefonata, proprio come è accaduto all'anziano signore la settimana scorsa. Un uomo spacciandosi per un parente stretto che vive all'estero ha chiesto al nonno di anticipare per lui il pagamento di un pacco contenente strumentazione per il lavoro. Il truffatore non ha destato sospetti perché aveva raccolto diversi elementi personali sulla famiglia. La conversazione, cosparsa di dettagli, era credibile. Così l'ottantenne ha consentito, un presunto corriere si è presentato a casa sua e gli ha chiesto un pagamento in contanti di 3.000 euro. Non solo dunque riprende Caremi la solita truffa dell'incidente e dei finti agenti che chiedono di pagare una multa per evitare l'arresto di un parente, ma anche casi meno evidenti sui quali è più difficile dubitare. L'amministrazione comunale di Calozio Corta diffuso una nota che raccomanda, in caso di telefonate con richieste di denaro, di consultarsi con amici e parenti prima di prendere qualsiasi iniziativa. Per aiutare le indagini è fondamentale segnalare alle forze dell'ordine anche solo un sospetto.